buonasera cari abbonati ecco il vostro programma preferito ma avete chiuso porte finestre avete inserito tutti gli allarmi avete le scorte di cibo nella vostra dispensa e ora buona visione e ricordate clandestino non è genuino immigrato uguale a reato loro ci rubano il lavoro e non hanno voglia di lavorare loro rubano le nostre donne e le schiavizzano loro diffondono malattie e possiedono armi state in casa stretti alle vostre poltrone clandestino non è genuino immigrato uguale a reato sono libera voglio vedere la luce non uscire la luce brucia gli occhi mi definiresti migrante perché mi definisco migrante sono migrante e spero essere sempre un migrante perché credo che la terra è un solo paese e tutta l'umanità i suoi cittadini sono una migrante perché ho lasciato il mio paese dove sono nata e mi sono trasferita qui in italia e adesso vivo qui il contributo pensi di aver dato al paese che ti accolto sono cantante e lavoro anche come mediatrice interculturale io lavoro in settore turistico porto qui turisti e cerco di spiegare la cultura italiana e fare vedere agli italiani la cultura nostra della gente che viene qui a vedere il paese cos'è uno stereotipo e come si sfata? lo stereotipo è mettere tutti nello stesso calverone e sfattarlo e conoscersi e tante volte ci assomigliamo appunto di più di quanto siamo diversi i stereotipi nascono perché le persone non hanno voglia di vedere l'altra cultura di capire le persone chi vedono e prendono solo l'informazione quello che racconta del male